Se ti piace la frutta Sconosciuti che cercano di uccidermi La mappa che rimane su un aereo in fiamme Elena dispersa, forse morta Davvero un ottimo inizio Nate Capitolo 4 Lo schianto, allora Appunto c'è il titolo Riassume tutto quanto E ragazzi Credo che questo sarà un capitolo Molto molto lungo E anche parecchio stronzo Se si può dire Intanto ho già quello che mi viene richiesto qui Si fa così La delicatezza Nate Proprio, la delicatezza in persona Sei Sempre la ricerca di tesori Sono più ladri che altro Ed eccoci in questa landa desolata C'è tanta acqua Agua fratello amico Però non c'è niente da raccogliere Grazie Però sta musichetta qua che c'è Dove cazzo sto andando Insinua qualcosa Devo andare qua su Grande Proprio sono un mito Ero troppo basso con la sedia Allora Ok Siamo arrivati da lì E Questa cos'è? Eh Posso bestemmiare Oppure Devo usare un efemismo No perché potrebbe essere anche un bel porco A vederlo poi Anyway La gente che mi scrive per il calcetto a quest'ora Ma sono le dieci e mezzo di sera Ma che cazzo Ma scrivetemi domani no? Quindi Devi saltare Ma salta a modo zio Bravo Così ti voglio Grazie Per un proiettile Grazie Che sforzo Certo Il modo in cui si spostano è veramente Ti fa incazzare Aspettammo 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 Buono Piuttosto ragazzi Cioè Prendetevi Un secondo in più di tempo Ma mirate la testa Che novità Ma dici qualcosa di nuovo Vero? Però insomma È un consiglio che Mi piace dare Arrampicati sulla liana Tipo Tarzan Sì Spara per uccidere Ma va No E così si fa Allora Di proiettili sono pieno Però se ricarico Sono sempre pieno Fantastico Oh Le bombette E quando mi riferivo Le bombette Di solito Mi riferivo a quelle Che si fumano Però va bene Si può fare un'eccezione Intanto Non è morto Ora sì Cambia spalla Zio No Non so cosa ho fatto Non so che combinazione Di tasti ho premuto Però ne sono uscito vivo E forse questo è l'importante Per fortuna Non ti scale e colpi Sto bastardo Ma no Eh io Chiuso L1 Per correre Sono un coglione Abituata Della sto fase Dovete perdonare un secondo Ma che bella discesina Vai Fermo lì Buono Buono Rapido In dolor Scozia Ucraina 3 a 0 Notifica a caso Peccato non ci sia la modalità ascolto Ragazzi Lo puoi capire Ciao zio Per ora non ce n'è altri Ripeto Per ora Poi Presto il problema si risolverà Ok Esattamente Sì però Coglilo Bene Bisogna di qualche munizione Oh La K47 Sì No 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 Non devi fare così Sicuro Su non c'è nessuno Per ora Possibile Muoia più facilmente Con la pistola Che col fucile Automatico È incredibile Vi andrà dietro Ok No Ok Grazie Grazie De regalino Ne avevo proprio bisogno Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Sinceramente Ok Qua sei un bersaglio facile Coglione Sei morto Bule Ma se manco Mi vedi Sto uscendo Fucilato Fucilato nel vero senso Della parola Ora sei mio Sicuro? Vado a prenderlo Torniamo alla pistolina Va Ma quanti ce n'è? Quanti sono? Quanti minchia sono? No No Devi andare di qua Va bene No Riparati Così Cambia Perché non mi salva La spalla Che palle Oh Bingo Grazie gioco E tanto però Bisogna ringraziarti Cioè quando fai le cose fatte a modo Bisogna ringraziarti Dai che questo fucile Ne contiene a massimo 90 Dai dai Non fare Questo è strano Molto E Adesso Giro di ricognizione Per raccogliere tutti I proiettili possibili Al punto Dicevo Dai che Contiene a massimo 90 Quindi Puoi anche darmi di più Chi è? Chi sei? Ma fatti vedere Ah Sei tu lassù Bello Vieni Sì vabbè però dai Ciao 50 tondi tondi Ma ce n'è qualcuno di più 66 Buono Tuo madre Salta Salta in questo momento Salta Guardati intorno Bomba Guardati intorno appunto Altra bomba E questa non si può sfondare Vero? Invece si Oh merda Però Voglio fare una cosa Non vorrei aver fatto un danno Ma Si poteva una volta fare questo Quindi non si può più Ovvero questo qui Bello signori Poesia 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 Che famo? Maledizione Spara per uccidere Inseguitelo Non perdetelo di vista Abbiamo obbligato Ascovatelo Buono Degli U2 No vabbè Battuto a parte Tre bombe Devevi andare via Il culo Meno male Sono delle bombe di merda Tipo che Hanno un raggio di esplosione Di 20 centimetri E quindi va bene Ma quanto Devo sparare Però Ehi Maletto della sua fase Che poi Della noty dog Anche quello No Bravo Non sei visibile lì No Complimenti Se la furbizza in persona Giusto Ok A scuola Mi chiamavano Er furbo Del secolo Ok Bello dritto Nel coppino Munizioni A posto E si Gli ho sparato in testa Non è morto Avete visto Via No 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 E vabbè L1 Bastardo Ancora Mi sta fottendo Sto tasso del cazzo Ce l'ha fatta Morine Cioè Sembra di sparare A Rasputin Giuro Vabbè Dato che Ecco Non ho più bombe Perfetto Vabbè Non coglierlo Mi raccomando Non muore Qua la gente Non muore Ragazzi Cioè Vraimenti Il gioco Te duri a morire Questo Ah bravo Ok Ok Allora Credo che si vada per Di qua Giusto Exact Vieni Amichetti Cerampichi Bravissimo Bravo Sicuramente qua ci sarà Mezza sorpresa Ne sono sicuro Fatti Lo vedo No No Coglione Io finchè non lo uccido Rimango lì Al costo di morire Forse ne avete capito I coglioni funzionano a volte Allora Spari da destra Due Non sparate Vi prego Non sparate Vi prego Oh che culo Che culo Che culo Non mi hanno sparato Cioè tipo Il bersaglio più goloso Che potesse esistere Non mi hanno sparato A volte Un po' di culo Anche a me Per favore Lo so che mi è andato 50 E sei dirchio Però So che puoi fare di meglio Zio Perché non posso andare di qua So che puoi fare di meglio Cioè Un po' di carità Un po' di Di munizioni A chi ne ha veramente bisogno Vi prego Gesù Sono difficoltè Un atto carino Potete anche farlo Allegro Allegro puttana Maia Comunque Non saltare di là Perché sicuramente Anneghi Quindi di qui Ragazzi Un consiglio Guardatevi sempre intorno Se qualcosa Vi sembra troppo lontano Vuol dire che sta Per incularvi Buono Buono Dove continuano ad arrivare Questi tipi Me lo chiede anch'io Sai Bello Tegna cagnotto Tegna cagnotto 2 Ovvero Quadrata e chiesa Vulcito ma è la verità Ho una paura così folle di cadere Che voi non ne avete idea Tendi la mano al tuo prossimo Vai Bravo Bravo Oh merda Grande Aspetta che vengo a prendere anche voi E vengo a fare esattamente questo Scusate Vado Vai A posto Che sennò poi Dopo non c'è più Vieni No 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 Uno E due Ma per morire contro due Una vergogna proprio Ok dai abbiamo finito Allora Giro di ricognizione questo Munitions Beh Ottimo Tesorini Tesorini Non c'è niente qui Niente tesorini Bene Andiamo Che cazzo di arampicamento ha fatto Vabbè Non lo voglio sapere Oh L'aereo nostro Che bello Questa voce qua sembra un misto tra quella del re leone E quella di Ero Ero Sala mazzotti Non so perché Non chiedetemelo Che non so darvi spiegazioni alcuna Eccolo lì Mi chiamo attività subito Meno uno l'ho fatto fuori Meno uno Meno due Meno tre Meno quattro Prossimo Devo anche usare il bidone Però va bene Eccolo lì No C'è dei proiettili qui Ecco Sennò poi non so che cazzo Usare Nasconditi Cos'è che non mi salverà scusa Fuori uno Fuori due E via Cori fornimento Oh Tutti in avanti i colpi Ma che bello Eccoci Ok Ok Hold on Bella sei Salta giù Coglione E ora andiamo a ripigliare Ti preoccupa Bravo Calati giù Vai I fornimenti Sì Bombette Oh Permetti Brutto Lurido Che poi te la becchia Anche in testa Capito Non sei sgammabile Lino Cazzo Bene Fuori uno Ok Sei in trappola Bravo Dici Sparate Proprio in mezzo In mezzo In mezzo ai coglioni Vero Esatto Non è morto Ehi Un bel buco in mezzo ai coglioni Va bene Ciao Oh Accidenti Da quella parte Così vicino Poi Oh Oh A tua madre Quella lurida Sudicia Conosci Sudicia Ho finito i proiettili con le persone io Perché io non posso fare le cose normalmente Ho finito i proiettili Tanto c'erano di qua, no? L'ho già ammazzato, ok Eh, mo ci vado Mo ci vado, attenzione Ovviamente è arrivato da una parte e va anche dall'altra adesso, no? Cosa? Ricarica, coglione Ormai la Tandreca ha un soprannome che è coglione Che coglione Dai, su Vai Sei l'ultimo Ma perché mi cambi la spalla? Perché mi fai sparare con la sinistra? Mi chiede Mi devi spiegare perché mi fai sparare con la sinistra Cosa ti ho fatto di male o nella vita perché tu mi faccia sparare con la sinistra? Io non ti ho fatto niente Lo vedo Godo, bastardo Meglio guardare dove cammino Già, vero? Resisti Elena Facciamo che questo qua salta In tutti i sensi Via Oh Gesù Bambino Ok Attenzione a questo punto Partiamo con lui C'è uno col bazooka laggiù Ok, è morto Torna giù Quasi preso Quasi preso però A volte succede fiumi chiappe Intanto quello col bazooka è morto E il peggio è andato Questo punto qua Questo punto qua va fatto a scatti ragazzi Non c'è cazzi Così Così Questo punto qua ragazzi è stronzissimo Ok, a 40 ci siamo Oh, 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 oh Ok, buono Lo vedo Non è morto nessuno dei tre Vieni fuori Vai Smooth Very smooth Oh, in italiano Pulito Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta Oh, 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 oh Non mi ha preso per nulla Non è la possibilità Via Buono, aspetta Perché spara da terra quello? Accidenti Grazie Molto utile Che è stato Niente non muore Grande Oh, non finiscono È incredibile Non solo non finiscono Ma non si schiantano neanche Contro le trappole C'è qualcun altro che vuole fare visita Ovviamente Buono Ok Questo è già stato fatto Questo ok Questo ok Questo ok Siamo di qui E questo ciao E va bene Credici Va bene dai In fondo ci siamo arrivati Stai scherzando Capitolo 5 La fortezza